La migrazione è uno dei migliori problemi che il nostro mondo sta vivendo, e credo che è il momento di cambiare la narrativa. Ovviamente siamo honniti, questa è una delle più importanti conferenze e importanti durante il anno, quindi non possiamo perdere, è un'occasione solo di condividere buone pratiche, esperienze, problemi con altri importanti attori nel campo. E lavorare insieme può creare e avere un più grande impatto sul campo, quindi è molto importante, siamo molto felici e cominciati a questo evento.